Musica Ben trovati con lo spazio informativo del pomeriggio, ma a grado i ritardi nelle chiamate allo screening mammografico, la senologia di Arezzo ha recuperato i controlli a tutte le donne individuando i tumori precoci, le liste di attesa per i controlli sono adesso pari a zero. Vediamo con il responsabile della senologia dell'ospedale San Donato di Arezzo, il dottor Giovanni Angiolucci, come sta andando la prevenzione per quanto riguarda il tumore della mammella e quindi lo screening. Abbiamo avuto l'anno passato una riduzione degli inviti per lo screening mammografico che si aggirava all'incirca 2 milioni in ambito nazionale. Quindi questo ritardo è stato un po' anche accettuato da una minore adesione delle donne che è stato stimato all'incirca del 20-21% e tutto questo ha comportato una minore rilevazione di tumori in fase precoce che si aggira, sono dati stimati, all'incirca sui 2.700-2.800 tumori non rilevati nell'anno 2019. Qui a Arezzo nel suo reparto come vanno le cose, avete avuto ritardi, come seguite le donne? Nel periodo marzo-maggio del 2020 abbiamo rilevato all'incirca 60 tumori, il servizio ha erogato comunque le prestazioni programmate per quanto abbiamo avuto anche un ritardo ampiamente recuperato. Nell'anno passato abbiamo rilevato complessivamente 350 tumori. Per quanto riguarda lo screening organizzato, le donne sono ampiamente invitate e quindi si raccomanda l'adesione a questo test diagnostico di prevenzione secondaria che è la mammografia di screening. Per quanto riguarda il programmato, cioè quindi le donne asintomatiche e le donne sintomatiche possono accedere al servizio con tempi di attesa che sono pressoché zero, sono azzerati, non abbiamo tempi di attesa. Hai consigliato anche fare solo l'ecografia piuttosto che la mammografia? Ma l'ecografia non è un esame raccomandato, è un esame di secondo livello, è indicato solo e esclusivamente nelle donne giovani, cioè al di sotto dei 40 anni che percepiscono il nodulo palpabile. Nuova bufera sul caso Scanzi, soprattutto dopo la puntata di ieri sera che è andata l'onda sulla sette. Non si fermano le polemiche sul caso Scanzi dopo una settimana di relativa tregua ad accendere la miccia, è stato il deputato d'Italia Viva Michele Anzaldi che in una nota diramata dalle agenzie e chiede la riunione del comitato etico della RAI Anzaldi. Non si capacita perché il giornalista del Fatto Quotidiano sia ancora libro paga della RAI. In carta bianca, dice Anzaldi, è stato esaltato il modello salta fila di Scanzi. Ieri sera nella trasmissione sulla sette condotta da Giletti sono emerse contraddizioni che hanno indotto le rete commerciali a sospendere la posizione del giornalista. Dunque una polemica che non si ferma e che è stata rilanciata anche dopo le dichiarazioni rilasciate dal DG della ASL Toscana Sud, Antonio Durso, che ha fatto capire come nella lista dei panchinari al momento della somministrazione del vaccino dato a Scanzi non fosse presente la categoria dei caregiver, a cui Scanzi ha detto di appartenere, confermando che è in corso una indagine interna per capire come tutto ciò sia potuto accadere. Nel corso della trasmissione è stato fatto vedere anche il post di Monica Bettoni, medico in pensione ed ex senatore, che è tornata in questi giorni a dare un aiuto ai colleghi dove si rassicurava lo stesso Scanzi sulle dosi di AstraZeneca non utilizzate e che non sarebbero finite nelle fogne. La pagina politica, il consigliere comunale di Scelguerezzo, Marco Donati, ha replicato a Ghinelli sulla bocciatura dell'opposizione detta nel corso del nostro ultimo Caffè Bollente in un'intervista del nostro direttore Luca Caneschi. Donati ha anche parlato del perché è nato, il caso Coingas. Sono passati pochi giorni dal duro attacco all'opposizione in Consiglio Comunale da parte di Alessandro Ghinelli. Se devo essere sincero, grande delusione. Grande delusione perché io sono stato all'opposizione per vari anni e quindi l'ho vissuto il Consiglio Comunale dalla parte dell'opposizione. A rispondergli è Marco Donati, di Scelguerezzo. Quando è stato consigliere comunale, lo dicono le statistiche, anche trovate online questi numeri, quando è stato consigliere comunale il Sindaco era uno dei più assenti del Consiglio Comunale quando lui faceva l'opposizione. Noi abbiamo depositato nove atti di indirizzo per provare a far affrontare al Consiglio Comunale i temi più importanti. Sono stati bocciati e la maggioranza di fatto non ha voluto neanche discutere nel merito quegli atti. Mi dispiace che il Sindaco dica che non si entra nel merito dei problemi più importanti. La replica di Donati si concentra anche sul caso Coingas. Spete perché nasce il caso Coingas? Il caso Coingas nasce perché Coingas è la nostra vecchia azienda della distribuzione del gas che poi è confluita in estra, in base al decreto Madia era considerata una di quelle aziende da tagliare perché non aveva più di fatto un Consiglio d'amministrazione, non aveva più dipendenti e le consulenze di circa 500 mila Euro che sono state poi oggetto dell'inizio dell'indagine, 500 mila Euro di risorse pubbliche, erano state secondo l'Assemblea di Coingas e di tutti i sindaci di Coingas, quindi in questo caso è libero il Sindaco da un'unica responsabilità, in quell'Assemblea fu deciso di destinare nel bilancio delle disponibilità a dei consulenti per decidere il futuro di Coingas. Non c'era da decidere il futuro di Coingas, c'era da dare vita alla legge Madia e tagliare le aziende partecipate che non servivano più e in base alla legge non dovevano più svolgere quella funzione. Locale chiuso, a Saione all'interno persone giocavano a carte senza rispettare le normative anti-Covid. Continuano i controlli della Polizia Municipale per verificare eventuali locali aperti con all'interno clienti ed assembramenti e in questo ambito è stato chiuso un locale per mancato rispetto della normativa anti-Covid. È accaduto domenica pomeriggio, nell'ambito dei numerosi controlli in centro indirizzati a verificare l'effettiva chiusura alle 18 delle attività di somministrazione. In questo caso è toccato ad un circolo a Saione finire sotto la stretta degli agenti della Polizia Municipale. Al suo interno infatti tre persone si trovavano sedute tranquillamente ad un tavolino mentre consumavano bevande. I provvedimenti a carico del gestore sono stati la sanzione amministrativa di 400 euro e la chiusura del locale per cinque giorni. I controlli proseguiranno finalizzati a verificare il rispetto della normativa anti-Covid, visti molti i casi che ancora si registrano in città. Attenzione alle false notizie o fake news e quella di ultima generazione per così dire riguarda i positivi sorpresi al supermercato. Da positivi richiamati dall'altoparlante che un giorno vengono collocati in un supermercato un giorno in un altro, dal negozio che ha aperto e hanno fatto una maximulta alla megafesta. Le notizie false o fake, come vengono chiamate in gergo, abbondano senza pietà per chi sta davvero male o per chi ha necessità di informazioni precise. L'ingenuità di crederci è giustificata dal fatto che in questi tempi di restrizioni ci si appiglia tutto senza remore. Occorre però fare attenzione, primo per evitare inutili catene sulle chat o sui social che generano polemiche e disinformazione e due per cadere in quelle che spesso, oltre che false notizie, sono anche truffe belle e buone che rischiano di indurre chi riceve messaggi farlocchi a fornire dati sensibili e ritrovarsi con conti svuotati. In questo caso occorre sempre avvisare le forze dell'ordine e ascoltare per le notizie gli organi di informazione ufficiali. Il mondo del benessere chiede la riapertura anche in zona rossa, solo un'impresa su cinque potrebbe accedere ai contributi previsti dal decreto sostegni. A due settimane dalla chiusura in zona rossa per la provincia di Arezzo ma anche per le altre zone rosse, CNA avanza alcune richieste a partire anche proprio dal decreto sostegni? Assolutamente sì. Quello che abbiamo visto è che il decreto sostegni non interessa in maniera sostanziale alle nostre micro imprese. Tutta la filiera delle imprese legate al mondo del benessere hanno subito, per come abbiamo visto all'interno dei nostri centri servizi, un calo medio del 25%, questo nel 94% dei casi. Tutto ciò ci fa riflettere sul fatto che il 30% di soglia d'accesso ai ristori per noi diventa una cosa impossibile ed inutile. Proprio per questo avete deciso di scrivere una lettera al Governo? Esattamente. Abbiamo deciso di portare una lettera aperta a Palazzo Chigi, indirizzata al Presidente del Consiglio Mario Draghi, al Ministro Speranza e al Ministro dello Sviluppo Economico, in cui chiediamo con forza la riapertura delle nostre attività in zona rossa come era prima, quindi per gli acconciatori ma soprattutto anche per le estetiste e dopodiché anche una rivisitazione di quello che è il carico fiscale a carico delle nostre aziende, oltre che a uno stop di quelle che sono le tasse del 2020-2021, perché le nostre aziende sono talmente tanto in crisi a livello di liquidità, a livello economico, che non hanno la forza per poter rifondere queste tasse. Questa sera su Teletruria, dopo il nostro Tg potrete assistere a 9 e 10, oggi un reportage di Barbara Perissi sul protocollo di intesa stipulato tra Fraternita dei Laici di Arezzo, Comune di Arezzo e Università degli Studi di Siena. Seguirà Block Notice il punto sul campionato di Sienici con ottica in maniera particolare sull'Arezzo. E poi la serata verrà conclusa da Borgo Italia alla scoperta degli angoli meno noti del nostro paese, la quinta e ultima puntata di Case della Vita. È tutto con lo spazio informativo del pomeriggio, grazie per essere stati con noi questa sera alle 20.30 a Tg Sarale con Barbara Perissi.